Ciao ragazzi, siamo pomeriggio e vi avevo promesso che avrei fatto più tardi il video e siamo ora. Benvenuti nel nono episodio di Angry Shark Evolution. Raga, siamo di Angry Shark Evolution. Angry Shark Evolution Raga, 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 raga. Raga, 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 raga. Dobbiamo arrivare al livello massimo così sblocchiamo lo spolo bianco. No, ho toccato le meduse, ho toccato le meduse, ci dobbiamo arrivare al livello 10 ragazzi. No, ho toccato le meduse, ho toccato le meduse. No, ho toccato le meduse, ho toccato le meduse. No, 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 ho toccato le meduse. Grazie a tutti.